Palermo, Fiorentina chiude il programma dell'ottava di campionato, una partita fondamentale per il futuro delle due squadre. Il Palermo si vince a due punti dalla vita, la Fiorentina si vince addirittura a un punto dalla vita. Batte Santana, Kuzbanovic, palo su palo ancora Kuzbanovic, gira per Santana, insiste la Fiorentina, il cross è deviato, fallo in angolo, grande avvio dalla Fiorentina. E' partito Bresciano, scappano Michele Cavani, in posto a Bresciano, salva il movimento agli attaccati, Bresciano qua fin da un tiro, Bresciano, Bresciano che è che il destro, il pallone si è abbatto ma non è sufficiente, nessuno è andato a chiudere su Bresciano. C'è Santana, la sua sinistra in area di rigore, pallone profondo, dimensione a rete, Fiorentina in vantaggio, Gilardino c'è arrivato. Vediamo, vediamo, pallo di mano, sì, mano nettissima. Tanto palla profonda di testa della Fiore, mette giù Mutu, bisogna tirare Mutu, il destro, gran bomba, a Mele, calcio d'angolo. Riparte la Palermo, in posto a Liberani, in verticale per Cavani, scattato in posizione regolare, Cavani, buono in controllo, si gira, Cavani può puntare, in aria a Cavani, Cavani parte il tiro, palla fuori, grande giocata di Cavani. Simplice con il tacco per Miccoli, Miccoli in area di rigore, Miccoli, tiro deviato, fregge. Miccoli, palla in verticale per Cavani, che deve fermare, non fa ne buono per Bressano, Bressano in aria, Bressano, sento il tiro, tre, tre, pittoso. Santana in verticale per il Gilardino, due contro due, c'è Mutu al centro, palla per Mutu, in aria di rigore, Mutu, Mutu, durante il partito, Mutu, rete, Mutu, le raddoppi della Fiorentina. Cerca il taglio, un'altra parte, è stato chiuso, poi subito a Mutu, in aria di rigore, Mutu, prova il tiro, secondo palo, palla fuori di Gilardino. Può fondare Balsaretti, d'arco c'è Miccoli, si accetta Balsaretti, troverà Miccoli, ruba la tempo a Mutu, Miccoli, cross a basso, Cavani, Simplice, rete, rete, Simplice riapre la partita. Liberani, prende nel controtempo Bressano, regala il pallone a comodo, che va all'attraversone, fa la catraversa all'aria, il sinistro, rete, ancora Mutu. Cosse di Castani verso Cavani, colpa di testa, Frey, ancora il Palermo. Fisca Morganti, game over a Palermo, la Fiorentina, si porta un punto dalla Vesta, vince 3 a 1, farà discutere il gol di Gilardino, niente regolarità, fallo di mano, ma a lungo si è vista una grande Fiorentina, contro un grande Palermo.